Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti signori Riprendiamo la serie dopo qualche giornata di sosta che ha avuto qualche problemino personale Però riprendiamo all'avventura dei nostri gamberetti che cercheranno di qualificarsi ma quantomeno per il playoff in questa stagione Speriamoci, siamo non in questo momento alla classifica ma prima di partire col video signori Io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie A tutto il canale, vi ricordo di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Maullo941 Dove tramite le stories vi informo sulla programmazione giornaliera dei video e sulle live che facciamo sia su questa piattaforma che su quella viola Dove mi trovate sempre come Maullo941 Detto questo signori non perdiamo tempo e partiamo con il video Ok signori, allora, prima cosa, nei commenti dell'ultimo video mi avete detto di dare al nostro esterno giardino Al nostro giardino, al nostro esterno destro Dove è giardino, giardino, giardino Ecco che è un 66, è una bestia signori miei Di dirgli di imparare a fare l'esterno sinistro Così ce lo teniamo sulla sinistra al posto di Pringles E vediamo un attimino Devi fare l'esterno sinistro Ecco, quanto ci stai? Due settimane Oh, a imparare a fare l'esterno sinistro Bravo zio Impara a fare l'esterno sinistro Che tra due settimane diventi il titolare al posto di Pringles Ok, così poi eventualmente ci manca un esterno destro forse Sì, più o meno sì, più o meno sì Poi, fatto questo, signori, dovete scrivermi nei commenti Come faccio ad aggiungere l'altra formazione Perché ci ho provato un attimino Sono ignorante, signori, scusatemi Scusate la mia ignoranza Come faccio ad aggiungere un'altra formazione qui già preimpostata Così non ho bisogno di fare ogni volta le sostituzioni Ogni due minuti devo cambiare tutti i giocatori Faccio una squadra di panchinari e una squadra di titolari Così, veloce e rapido, in dolore Ci giochiamo le partite così, belli e organizzati L'unica cosa che voglio fare un attimino Controlliamo la panchina Vediamo se c'ho i giocatori giusti Allora, Mendez, Vazela, ok Giardino, Slow Aspetta, Aladine a posto di Slow va bene Perse, Valen 61 Vazela me lo devo portare per forza, signori Vazela me lo devo portare per forza Percival si fa una giornata di riposo Percival, mi dispiace, ma si fa una giornata di riposo Detto questo, signori Andiamo avanti col calendario Andiamo avanti col calendario Arriviamo alla partita di campionato contro Chi cazzarola sono questi? Non me li ricordo Non me li ricordo minimamente Se ce la fa a caricare il gioco E fu sera e fu mattino Contro il Newport Aladino sta passando un buon tempo Un buon periodo E mi fa piacere per te, Zio, ma non puoi scendere in campo In campo scendono i titolari Ovvero Anche Percival vuole giocare Porca miseria Ci penserò Allora no, devo fare giocare sia Aladino che Percival Sia Aladino che Percival Perché sennò mi si incacchiano E non deve succedere Quindi Andiamo a prendere Andiamo a prendere Aladino Al posto di Late Smith Gioca Aladino che è anche più forte E al posto di Davis Mi gioca Percival Ok, va bene Così sono tutti contenti Felici E nessuno rompe le scatole Sperando che ci portano a casa I tre punti, signori Ma è partita di Coppa E è partita di Campionato? No, è partita di Campionato Ok, simulazione veloce, signori Fuori casa Morecambe e Newport Che c'è famo? Dai, dai, dai Vinciamo 2-0 Bella così Gol di Wilding E gol di Lavel Bello, bello È uscito Stockholm Per Late Smith È uscito di Augurera Per Giardino Buono, signori Giardino sa anche fare Il centrocampista Ricordiamoci Questa è una cosa Molto interessante Dai così Dai così Tre punti portati a casa Tre punti importanti Portati a casa Dai, dai, dai Sotto quell'altra Qua mi ringraziano Per le partite Sono contento Abbiamo fatto la scelta giusta A farle giocare, signori Così Si Prestazione autorevole Bravo, bravo Bravo il mio Aladino Ottimo lavoro per Percival Va bene, va bene Va bene, va bene Va bene Dai, dai, dai Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Dai, dai, dai Sì, sì Simulazione Qua devo fare gli allenamenti O no Ce l'abbiamo già fatti gli allenamenti Dio si ringraziato, signori Dai così Allenatevi Non rompete le scatole Prossima partita di coppa Abbiamo due partite di coppa In rapida successione Contro l'Holdam Contro l'Holdam Facciamo giocare i panchinari Ecco, vedete In questo caso avrei messo direttamente subito i panchinari Ovvero Leigh Smith Slow Che è brutto Sullivan se la gioca No, invece qua mettiamo il giardino Ok Di augurà fuori per Kanon Wilding fuori per Songo Prince se la gioca Henry fuori per Gibson Percival fuori per Davis Lavelle per Vazela Melnor non ce l'ho E Alstad fuori per Mendels Ok Mi manca questo passaggio Spiegatemelo nei commenti Così vediamo Se riusciamo a essere più veloci Questa è la partita di coppa Che sinceramente ci frega poco Non è partita di coppa Questa, sì Mi risponde LF Trophy, sì Simulazione veloce Dai così Pure se la perdo non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Che ci fanno? Vinciamo 2-0 con i panchinari Signori Tanta roba Gol di Pringles Slow È uscito Le Smith Per Diago Gurara È uscito un attaccante Per un centrocampista Va bene Lasciamo perdere il nostro secondo Che cazzarò di sostituzioni fa Però va bene Diamogli fiducia Diamogli fiducia Va bene così Fin quando ci porta risultati Interessanti A casa Per noi Va bene Va bene Ora abbiamo nuovamente La stessa partita Contro gli stessi Però in campionato Andiamo a rifare tutte le sostituzioni Che cosa carina Fuori Le Smith Dentro Stockholm Fuori Slow Dentro Aladino Dove qua Giardino Giardino lo mettiamo di qua Per Pringles Così impara a giocare da quel lato E Pringles esce per O'Sullivan Fuori Kanon Dentro Wilding Fuori Zongo Dentro Diago Gurara Fuori Gibson Mel Gibson Dentro Henry Fuori Davis Dentro Lavandino Fuori Vasino Dentro Percival Melnor sale e continua a fare tutto E Mendez fuori per Astad Ok Ok Siamo tutti Vaselallo Lo lasciamo in panchina Così si recupera Però Le Smith me lo porta A posto di Slow A posto del nostro Mister Lento Mister Lento Che però Però signori Ci hanno portato Ci hanno portato La qualificazione Dall'altro turno in coppa Siamo Ottavia 19 punti Dai 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 I playoff sono lì signori 3 punti 3 punti 3 punti oggi sarebbero Fondamentali 3 punti oggi sarebbero Manna dal cielo Che c'è famo Contro questi Stavolta siamo fuori casa Aia Perdiamo 2 a 0 Dai ma non ci credo Risultati assurdi Dai Li abbiamo battuti Poco fa 2 a 0 in coppa E ora perdiamo 2 a 0 Ma preferivo perdere in coppa Scusatemi Con i panchinari abbiamo vinto 2 a 0 Con i titolari ho perso 2 a 0 Non ci posso credere Non ci Non 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 Boh Non ci posso assolutamente credere signori Non ci posso assolutamente credere Dai così Allenatevi Fate quello che volete Quello forse Quello lato dovevo farlo Prendiamo una D Ma va bene così Non fa nulla Non fa nulla Porca miseria Mannaggia di una paletta ambriaca Mi aspettavo la vittima Mi aspettavo Contro Contro chi siamo Giardino è distrutto C'è una squadra distrutta signori Allora fuori giardino Dentro Pringles Fuori wielding E diagurera Per Kanon E E Ozon Go Va bene E Gli altri lasciamo lì Fuori Aladino Per Leigh Smith E basta Va bene così Dobbiamo per forza giocare così Dobbiamo per forza giocare così Dai Contro il Charles Lee Charles Lee Charles Lee Sì Simulazione veloce Dai signori 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 10 credo 1 a 0 Va bene O Sullivan Bravo Bravo Al tredicesimo Nessuna sostituzione Buono così Buono così Buono così 3 punti 3 punti Certo vincevamo pure quelle prime Erano 9 punti in 3 giornate Era un passo spettacolare Siamo Siamo settimi A 22 punti Avessimo vinto pure quella Va bene Dai giochiamoci l'ultima Signori Giochiamoci l'ultima E sarebbe la quarta La quarta della giornata Vediamo un attimino Vediamo un attimino che possiamo fare Allora Sullivan lo lasciare dentro E dobbiamo cambiare mezza squadra E lì Fuori Percival Per Davis I due centrocampisti escono di nuovo Dentro di Agurra A posto di Pringles Facciamo giocare Giardino E a posto di Stockholm Gioca Aladino Ok Uno scioglilingua A posto Uno scioglilingua Dai giochiamoci l'ultima Signori Giochiamoci l'ultima Buttiamo il cuore Oltre all'ostacolo E vediamo che succede Contro il Barrov Chiudiamo in bellezza Chiudiamo in bellezza Dai signori Facciamo almeno tre vittorie Abbiamo fatto tre partite Zero a zero Mh Alti e bassi Alti e bassi In questo episodio In questo episodio Alti e bassi Mh Mi aspettavo Una vittoria in coppa Che non mi aspettavo Che non ci serviva Più di tanto Perché però le coppe Sono il nostro ultimo pensiero Però abbiamo fatto questo Praticamente Va bene signori Detto questo Vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo episodio Bella raga Ciao Ciao